Teramo al 29esimo posto, Pescara al 33esimo, Chieti all'84esimo e L'Aquila al numero 100. Questa la posizione delle quattro province abruzzesi nella classifica sull'indice di criminalità pubblicata oggi dal Sole 24 Ore, che è relativa all'anno 2020 e si basa sul numero dei delitti commessi e denunciati in rapporto alla popolazione. In particolare Teramo passa dalla 45esima posizione della scorsa edizione alla 29esima attuale. Le denunce nel 2020 sono state complessivamente 9487. Segue Pescara che migliore passa dal 29esimo al 33esimo posto con 9678 denunce. Poi ci sono Chieti dall'86esimo all'84esimo posto 9.005 denunce e L'Aquila dal 105esimo al centesimo posto 6.052 denunce. Analizzando i dati spicca quello sugli omicidi colposi, Chieti al primo posto in Italia e Pescara al quinto. Il capoluogo adriatico inoltre è al terzo posto per rapine in uffici postali, al sesto per rapine in banca e al nono per quelle in esercizi commerciali. Tre province abruzzesi inoltre sono nella top 10 per quanto riguarda l'usura. L'Aquila è al terzo posto, Teramo al sesto, Pescara al settimo. Il Teramano infine è in ottava posizione per contraffazione di marchi e di prodotti industriali. Tante come nel resto d'Italia le truffe e le frode informatiche. 1.560 le denunce nel Chietino, 1.307 nel Pescarese, 1.229 nel Teramano e 1.002 nell'Aquilano. A livello nazionale, Milano ancora prima per denunce in rapporto alla popolazione residente seguita da Bologna e Rimini. Ultima invece, Oristano, considerato il centro più sicuro.